Con Nikola Tesla Libra, Elica introduce una rivoluzione in cucina. Tre elettrodomestici in uno, piana induzione, sistema aspirante e bilancia, con la quale è possibile pesare direttamente sul piano durante la cottura o a prodotto spento. Installabile ad isola o a parete, anche in basi profonde 60 cm con cassettoni di 45 cm. Per il passaggio dei tubi nella versione filtrante è sufficiente uno zoccolo alto 6 cm. Nikola Tesla Libra, disponibile in vetro nero o bianco, ha quattro zone cottura utilizzabili in modalità bridge, permettendo a due zone adiacenti di lavorare in maniera combinata. La griglia in ghisa cela il potente cuore aspirante, grande efficacia nel massimo silenzio. Il comando All-in-One è semplice e intuitivo e dotato di funzione Auto Capture, con la quale Nikola Tesla Libra imposterà autonomamente la potenza di aspirazione in base alle zone cottura impegnate. La manutenzione dei filtri si effettua comodamente dall'alto. I nuovi filtri odore ceramici raggiungono soglie di filtraggio maggiori dell'80% e si rigenerano fino a 5 anni. Nikola Tesla Libra è sicuro? Se cadono liquidi nella parte aspirante, basterà aprire l'apposita valvola per permetterne lo scarico. Nikola Tesla Libra è perfetto per chi ama cucinare, integrando in un design armonioso tutti gli strumenti necessari.